Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su IndieGameplay.it Oggi siamo su Watch Dogs Legion, lo stanno portando in tanti e tantissimi della verità, stanno facendo delle serie, dei gameplay, delle live, io voglio portarvelo però in modo mio, in modo un po' diverso. Diverso in che senso, non faremo nessuna serie, ma voglio solo parlarvi, lasciandomi trasportare un pochino così dall'entusiasmo, di quella che è una serie che mi è piaciuta da sempre e una piccola riflessione fatta sulle recensioni, perché le recensioni io le ho viste, quelle di questo titolo, e non ha preso il gioco, non ha preso il voto che sperassi, che speravo, insomma come si usa dire. Ma questo non mi ha deluso, perché tantissimi ho visto che hanno parlato male del 2, e il 2 è un capitolo che ho adorato. Non mi interessa se non è realistica la tecnologia, è troppo basata sui bambini, sui ragazzini, a me è piaciuto tanto. Quindi, provare questo titolo, voglio godermelo proprio in pieno. Ci troviamo in una Londra, di un futuro, insomma, dove la tecnologia è tutto. Infatti, vedete che potete andare a craccare ogni singolo mezzo, facendolo andare avanti, vedete, in questo caso sto scatenando il panico, e quel poliziotto lì sta andando a indagare, perché quel camion lì è impazzito, l'ho craccato, e... e l'ho fatto andare avanti. La particolarità di questo titolo è che non c'è un vero e proprio protagonista, ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, perché noi possiamo, come potete vedere, andare a parlare. Adesso in questo caso non lo posso fare, perché siamo in emergenza, perché stanno ricercando. Però, in sintesi, possiamo andare a vedere ogni persona di Londra, e possiamo vedere il suo profilo, cosa fa, il suo guadagno, i suoi possedimenti, e possiamo andare a ingaggiarlo nel DedSec, che è la nostra, diciamo, fazione. Nel Watch Dogs 2, il quartiere generale era in un negozio da nerd, in pratica nello scantinato. Qua siamo nei sotterranei di un pub. La cosa bella di questo gioco, e per cui appunto me lo voglio godere proprio a pieno, è il fatto che la città è viva, il modello di guida è simile a GTA, quindi nulla di assolutamente simulativo, ma la figata, e qua il video appunto vi vuol presentare questo titolo, il fatto che, ok, abbiamo le missioni, stiamo reclutando ora un... mi serve una persona che entra in squadra, che sia un operaio edile, e quindi abbia accesso ai droni, i droni che volano e trasportano merci molto pesanti. Ma questa persona mi ha chiesto una missione, in pratica, di andare a cancellare un debito che ha contratto con una fazione presente in gioco di Malavitosi. Là in fondo vedete il cantiere. Dovremmo vedere anche i droni vicino. Adesso proviamo a vedere... Io continuo a salire da sinistra, ma in realtà la guida è a destra, perché siamo a Londra, quindi si guida anche a sinistra, in parte sinistra della strada. Devo un pochino abituarmi. Allora, dovremmo poter vedere i droni, infatti vedete i droni? Cioè la città è viva sotto questo aspetto, perché appunto voi vi avvicinate in una zona dove stanno costruendo delle case, e andate effettivamente a vedere droni che volano. La figata assoluta è che potete... Adesso scendo prima che mi parta il Copyright Strike. Posso controllare un drone. Il drone fattorino. Lo spettacolo è che lo potete guidare, oppure lo potete... Adesso non lo posso fare, perché probabilmente è lontano. Potete usarlo addirittura per salirci sopra e volarci guidandolo, quindi avete anche la verticalità. Non solo come droni, ma anche come persona. Quindi adesso siamo in una zona che non ci è consentito visitare. La particolarità poi di questo gioco è che... Adesso io devo capire da dove parte quell'accesso lì. Perché la particolarità di questa partita che ho iniziato è che ho messo la morte permanente. Cioè tutti i membri della mia squadra possono morire. E quindi se muoiono, muoiono definitivamente. Allora, mi stavo facendo vedere il menu, giusto per vedere. Il menu tecnologia è molto interessante perché possiamo sbloccare diverse tecnologie. In questo momento ho soltanto questo, che è il drone, lo spiderbot. Dite, non sono tanti, è vero, ma potete potenziarli. E praticamente io ho lo spiderbot, che è un robottino che si filtracerà il vecchio drone con le ruote. In pratica un hoverboard che è andare un po' alla Siege, nel vecchio capitolo, se non ricordo male. E qua invece andate dentro i condotti dell'aria, con questo craccate le cose, così. I punti per la ricerca è bello perché ogni volta che voi nella storia sbloccate un quartiere, insomma, lo mettete in ribelle. Non vi spoilerò nulla, non vi spiego nulla della storia. Ogni volta che però ne conquistate uno, vi vengono segnati sulla mappa tutti i punti. Dove ci sono i punti tecnologia, che poi potete andare a spendere. Altra cosa, andiamo avanti a vedere. La squadra, qua ci sono tutti i membri. I membri che ho reclutato è questo e questa. Questa mi incuriosiva perché comunque era una... A parte che sembra molto più vecchia di quello che era, a 29 anni una modella. Appunto, pensavo fosse più vecchia. E potete andare a modificargli l'equipaggiamento. E soprattutto, ognuno di loro, questi invece mi sono stati, diciamo, dati dalla storia. Dalla storia, in realtà, me li sono trovati qua. Ognuno ha i suoi pregi, i suoi oggetti che può utilizzare. E la cosa che mi piaceva di questa è che, poi potete vestirli come volete, lui era un pochino più, aveva la gonna, glielo ho tolta, insomma. Usiamo lei. Lei, in questo momento, potete andare a vedere, che si trova da tutta altra parte dove siamo noi. Quindi, cambio attivista, prendiamo lei. Lei ha un'abilità che... Un'abilità. Lei ha fatto, come peculiarità della sua personalità, lei guadagna 20-30 mila dollari l'anno, insomma quello che è sterline, ecco. E, però, ho fatto un investimento, ho preso un'auto sportiva da 200 mila sterline. Quindi, premendo Q potete andare a richiamarla. E quindi, adesso mi segna che l'auto è di qua. Salve. Vedete che su ogni persona possiamo andare a reclutarla, avviare il reclutamento. Ci daranno una missione da fare. Io mi rinisco a te, perché... E però, devi farmi questo compito, devi aiutarmi così, vedete. Non vado al dottore da 5 anni. Ci sono, ad esempio, delle persone che vorrei trovarne uno vestito bene, fargli fare un po' il James Bond, vorrei trovare un avvocato, perché con l'avvocato, in pratica, se i vostri personaggi non vengono uccisi, vengono catturati, con l'avvocato avete la possibilità di riottenerlo, farli liberare istantaneamente. Quindi, la peculiarità di avere un avvocato nel team. Potete... Vabbè, vedete, adesso io vedo lei. Lei è carriacouponfinti, sconto abbigliamento. Poi, come ho già detto, non vi spiego nulla perché loro debbano unirsi a voi, però vi dico, ci sono i buoni motivi, insomma. Allora, lei sale sulla sua auto e ha l'auto sportiva. Lei ha quest'auto qui, sua di proprietà, la potete chiamare quando volete, ed è una peculiarità del personaggio. Scusate, non t'ho ucciso, vero? No, adesso sì. Vabbè, scusi, anche lei, eh, però... Vabbè, questo era giusto per farvi vedere un pochino il... Poi ci sono le classiche cose che potete fare come si fa dal Watch Dogs 1, dal primissimo capitolo. E... È una Londra piena zeppa di tecnologia, infatti premendo Z, l'auto entra in guida automatica, che, visto magari qualche anno fa la guida automatica era pura fantascienza, ora lo è molto meno, però, insomma, se volete rilassarvi un attimo e... far guidare il gioco, lo potete fare. Adesso vediamo se riesco a prendere... Ok, della musica classica. Guida anche molto bene, devo dire. Quindi, vabbè, questa è un'altra peculiarità. Avete, vabbè, gli altri potenziali reclute, sto reclutando lei. Ovviamente, poi, se usandoli uno morirà, morirà, l'avremo perso per sempre. Ci sono classiche cose da cercare, tipo le reliquie che spiegano che cosa sono i floppy disk, insomma, le... un sacco di audio anche da poter sentire. Il negozio è un po' il difetto di Ubisoft, che vende tante cose, soldi, crediti di gioco, crediti reali, insomma, soldi reali, quindi niente di assolutamente obbligatorio. Il gioco, io non l'ho acquistato, ma ho fatto l'Ubisoft Plus, l'Ubisoft Plus, costa 15 euro al mese ed ha accesso a più di 100 giochi di fascia alta di Ubisoft, quindi giocherò anche il 10 di novembre, dato che comunque Cyberpunk è stato rinviato, giocherò anche Assassin's Creed Valhalla. e il bello è che questo abbonamento vi dà, e non sto facendo pubblicità a nessuno, ve ne parlo giusto così per informazione, vi dà la versione Ultimate, quindi la versione che io sto giocando ora è quella da 109 euro. Ovvio, tante cose dovevano ancora uscire, ad esempio nel menu principale c'è la sezione Multiplayer, che c'è scritto che verrà aggiunta a dicembre. Verrà rilasciato tra qualche giorno un DLC, tra qualche contenuto, verrà rilasciata le texture in alta definizione per l'uscita su PS5 e Xbox Series X, però non so, adesso io lo sto giocando a Ultra con il ray tracing, devo dire le pozzanghe e i riflessi sono veramente eccezionali, la grafica dal mio punto di vista non è sto spettacolo, anche se con una 2080 il gioco con, magari quando inizia una scena subito dopo magari una cutscene soffre quel mezzo secondo, quindi insomma si percepisce non so se una difetto di ottimizzazione o proprio effettivamente una pesantezza, però il gioco di per sé è molto poco fotorealistico, tende molto sul punto sul videogioco, sull'essere un videogioco. Intendo giocarmelo con calma, con molta calma, esplorandomi le città, vedete che qua ci sono i quartieri di Londra, so che Ossian Caster mi aveva detto che era curioso di vedere Londra, adesso io lo faccio poi anche per loro perché questo è comunque un video bonus, non trattandosi di un indie ma trattandosi di un qualcosa per cui io sono entusiasta. E vi dico, non mi interessa i voti che hanno preso le recensioni perché appunto il 2 mi è piaciuto tanto, a tantissimi invece no, e quindi me lo gioco, mi piacciono le novità che hanno introdotto, cioè diciamo mi possono dire a livello tecnico, a livello di qui e di là, però a me intrippa tanto il fatto di farmi una squadra, di avere i membri che muoiono, un po' come State of Decay, e di avere questi mille hacking, la cosa forse che ho trovato un po' scomoda, ma ci si fa l'abitudine, è quando voi andate in una zona e praticamente oddio, l'ho fatto svoltare così, andate in una zona e dovete scansionare un ambiente e dovete connettervi alle telecamere perché tante volte adesso io non voglio, adesso credo che non ci sia nulla qua da vedere, però vedete, scansionate e trovate magari delle videocamere, trovate delle videocamere e in pratica dovete passare da una videocamera all'altra per poter vedere cosa c'è dentro le varie stanze, no? E tante volte non vi non vi fa capire effettivamente dove si trova perché vedete solo la sagoma, quindi tante volte magari accedete rimbalzando da una videocamera all'altra ad una stanza, poi ne andate a prendere una che vi sembra quella di giusta, appunto che vi dà l'accesso al visuale che vi interessa, ma in realtà quella videocamera è fuori, quindi vi ritrovate a vedere l'esterno dell'edificio ed è una cosa un pochino scomoda però vabbè niente di che, qua ci sono anche un sacco di negozi, cioè ve la dovete vivere siccome con calma non come gioco, ci sono mille cose da fare, mille attività secondarie, non è il classico gioco che si inizia per finirlo il più in fretta possibile per giocare magari al gioco che sta uscendo questo lo dico perché spesso io ho approcciato i giochi in questo modo per voler finirli li ho pagati li voglio finire ma perché in realtà porca boia ho già in mente quello successivo ok ma si mette la maschera perché c'è il riconoscimento quindi bisogna fare attenzione ma ho fatto casino ma in realtà scusate lasciatemi in pace potete scegliere una maschera non sparano quindi va bene adesso apro questa porta qui no e direi che mettermi qui magari no ah ma è la stazione di polizia questa porca boia via e infatti mi avrei anche visto quello cioè non è poi possono hanno detto di questo gioco non è difficilissimo in realtà insomma dipende sarà che io devo ancora ambientarmi in questo titolo però non mi dispiace per niente niente questo adesso io mi sarebbe tanto piaciuto farvi vedere mi scusi mi sarebbe tanto piaciuto farvi vedere il drone vediamo se riesco a prenderlo un drone perché c'era una zona in cui mi sono preso un attimo mi sono preso un quarto d'ora per sbloccare qualche punto di tecnologia e ho visto che questo drone era ecco che questo punto di tecnologia era in cima a un palazzo a piedi non ne riuscivo perché diciamo i ponteggi quello che c'era non mi consentivano di arrivare fino in cima e allora ho preso uno di questi drone e la figata è che la figata è che sono riuscito a salirci sopra niente no sono arrivato nella zona dove ho la missione dove devo entrare in questo posto diciamo iper sorvegliato poi vedete che comunque ve lo potete giocare sono tempi difficili in cui viviamo sotto costante ok vedete che vedete ok vedete che qua io posso scansionare e poi andare a prendermi le varie videocamere vedete che qua ho questo controllo posso vedere lui tenendo premuto la rotella posso distrarlo vedere cosa sta facendo chi è posso andare a prendere questa telecamera qua in fondo giusto per capire dove devo andare ma in questo caso non vado molto lontano quindi mi riprendo questa io so che devo andare in un punto lì quindi vediamo se riesco a trovarlo controllo vedete che prendete qua dentro e dobbiamo andare qui però attivandolo attivando la distruzione di questi dati di questo parestito di questa ragazza non posso farlo perché non sono vicino quindi devo avvicinarmi o mandare un drone e quindi dovrò un pochino organizzarmi spesso per raggiungere il posto bisogna attivare questa cosa tenendo premuto la rotellina del mouse perché per aprire questa porta deve essere proprio caraccata una serratura a distanza quindi bisogna seguire questo percorso rosso il problema è che non si capisce dove va quindi tante volte prendete una telecamera e non capite effettivamente dove sta andando parte da lì va di là ok in questo caso lo vedo da lì quindi devo andare lì quindi posso fare un conto e dire io sono là devo no non ho idea di dove sia adesso devo entrare vedere chi c'è salire qui disattivare quello a quel punto ho aperto la porta entro e questo è un po' scomodo almeno all'inizio adesso vediamo questo tizio qui cosa vuole cosa fa ha una K47 sta sorvegliando arma corpo a corpo giudice clemente e tempi di detenzione più brevi quindi potrebbe essere una recluta però calcolando il fatto che fa parte di una fazione criminale direi nemica ma in realtà la nostra fazione non è propriamente criminale però insomma è una sorta di corporazione di ribellione dovremmo vedere un attimino allora non posso controllarlo il drone fattorino mannaggia a voi no non posso proprio drone antiterrorismo no non si possono controllare però comunque fidatevi è fighissimo perché potete farlo volare vedete ecco controlla vedete questi droni qua sono droni piccolini ci sono quelli con la piattaforma quindi potete salire e guidarli voi però con voi a bordo quindi volate e poi vi fate rilasciare magari in zone come questo adesso qua io voglio provare a fare una cosa che mi sta venendo un'idea se io scendessi qui e andassi è fuori portata mannaggia mannaggia devo avvicinarmi per me che ho amato la serie tv person of interest è veramente uno spettacolo questo gioco e non vedo l'ora comunque di giocarlo veramente con con molta calma posso carcare anche il drone antiterrorismo no no e no niente questo qua è un altro uh ha sfiorato appena appena non c'è un drone eccoli lì i droni da carico vedete che potete craccarli in questo caso non posso farlo probabilmente non ho ancora la tecnologia potete fargli mollare il carico e così via figo il sonoro il fatto che sia comunque doppiato in italiano è è fighissimo potete anche scattare le foto perché ci sono delle missioni dove vi chiedono di fare delle foto quindi watchdogs legion è un gioco che non costa poco perché costa 59 euro 59 euro poi ci sono le varie versioni intermedie dove vi danno più di lc più il season pass e oggetti aggiuntivi non è sicuramente un gioco per tutti dipende se avete amato gli altri mi sembra sicuramente un gioco ben fatto poi ribadisco per l'ennesima volta che è un gioco che come questo ha preso dal 7 all'8 può valere per voi molto di più dipende un pochino dal vostro parere sicuramente non è un gioco fatto male Ubisoft o meno c'è cura c'è un ambiente ricreato c'è vita io la penso così spero di avervi un pochino chiarito quello che è questo titolo vi ho fatto vedere come abbiamo cambiato personaggio abbiamo la squadra poi tante cose le devo scoprire ancora quindi ognuno ha la sua biografia lei è 29 anni modella 21.100 legami alla madre l'amica in attesa di deportazione ha tutta la sua storia ha ricevuto sponsorizzazioni da brand oscuri ha la sua bella storia e anche lui alla fine 60 anni non li porta bene devo dire è un hacker 151.000 guadagna molto di più della modella e poi tutte le le sue insomma ha seguito un corso online latino per la merda insomma veramente anche molto molto divertente come titolo poi se si può amare o meno questo diciamo sfoggio di iper tecnologia oppure di abbigliamento abbastanza discutibile cosa vuole questo e niente mi sta prendendo alle nate poi all'inizio ero il taser quindi ma mi picchi vabbè adesso voglio stoppare subito per non incasinarmi la vita ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo watchdogs legion se avete apprezzato l'idea di portare un video dove vi mostro un pochino quello che ha da offrire il titolo mettendovi per l'ennesima volta la pulce nell'orecchio questa volta per un gioco non indie ma un AAA fatemi sapere qua sotto nei commenti alla prossima e ciao ciao